Siamo dietro questo bellissimo disco rosso che riflette il bellissimo cielo di Milano in questi giorni. Il tema dell'identità come luogo e i luoghi dell'identità. E noi veniamo da un luogo identità che il re canadi, che il collo dell'infinito, che il leopardi, che è il bello e l'utile. L'idealizzazione dell'aspetto utopico del vivere è sempre un'ambizione, un'aspirazione. L'identità sono tanti modi di essere, tanti modi di essere che ti pongono poi sempre con continuità dove ricerca, sono smodiche quasi di dare essenza a quello che fai nella quotidianità. La luce è un fatto fondamentale dell'identità, ma dell'identità del luogo. Capire l'identità del luogo attraverso anche le sue caratteristiche luminose. Identità che viene data anche dal brand, dal market. Ed è importante che le persone che viaggiano, ovviamente sempre più viaggiano, si riconoscono. Però al contempo si è sentita anche l'esigenza di una personalizzazione. Oggi Milano con questi eventi e anche con la nuova architettura, che non è soltanto un segno, ma è anche un'apertura al mondo. Questa nuova casa dei Guzzini, del Lightgate, è un totem cittadino per avvisare che succederà qualcosa. Grazie. 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 Grazie.